Il Matma Gandhi ebbe modo di affermare. L'omeopatia è il metodo terapeutico più avanzato e raffinato che consente di trattare il paziente in modo economico e non violento. Dottor Siccardi, l'omeopatia è costosa? Assolutamente no, anzi una delle medicine più economiche. Basti pensare che con poche decine di Euro si possono fare trattamenti per 2 o 3 mesi di terapia. Anche qua con la medicina omeopatica noi facciamo cure di fondo dove bastano poche monodosi e un tubo granuli per andare avanti 60-90 giorni. La vera medicina omeopatica, quella cosiddetta medicina omeopatica anemanniana, è veramente parca, veramente economica e porta a guarigione e ristabilisce un equilibrio di quello che è il paziente. E questo è molto importante perché più un paziente è in equilibrio e in armonia e meno sintomatologia fisica farà. Quindi la vera cura omeopatica, ricordatevi, costa poco.